Beh, direi che mi possa ritenere soddisfatto di questa stanza per quanto riguarda l'ascolto musicale. Lì c'è un divano comodissimo che mi accoglie durante le sessioni d'ascolto classiche tradizionali due canali. Qua dietro mi sono ricavato un angolino dedicato per l'ascolto più intimo in cuffia. Ma quando sono in viaggio posso rinunciare all'ascolto musicale? Ma certo che no, soprattutto in questo periodo in cui si avvicinano le vacanze. Uno dei modi più semplici è quello di utilizzare una coppia di cuffie wireless. Se poi queste cuffie sono una nuovissima coppia di Bowers & Wilkins PX8, beh, si viaggia di lusso. Quando si è in viaggio, treno o aereo che sia, il nemico principale dei nostri ascolti, a parte il vicino occasionale che vuole chiacchierare per forza, è sicuramente il rumore di fondo. Tendenzialmente quindi non si tratta di ascolti di qualità. Una grossa mano però ce la può dare la funzione di noise cancelling, ovvero la cancellazione attiva del rumore di fondo. Credo che sappiate tutti come funziona. Uno o più microfoni captano il rumore di fondo, il rumore esterno ai nostri ascolti, e generano un suono uguale e contrario che va a cancellare o meglio a limitare l'effetto di questi rumori esterni sui nostri ascolti. In genere si tratta di un effetto molto evidente e di una correzione veramente efficace se il rumore di fondo è costante e continuo. Questo infatti consente agli algoritmi di correzione del rumore di agire su un campione costante, abbastanza ampio e lentamente variabile, il che permette di annullare quasi del tutto l'effetto negativo sui nostri ascolti. Quindi non riusciremo purtroppo a premere il tasto mute sul nostro vicino chiacchierone, ma sicuramente riusciremo a limitare e di molto sia il rombo del motore degli aerei che lo sferragliare del treno sulle rotaie. Ho parlato di noise cancelling non a caso ovviamente, ma perché si tratta di una delle funzioni che sono presenti sulle bellissime Bowers & Wilkins PX8. Bellissime, anche questo aggettivo non è stato utilizzato a caso, e il perché lo scopriremo subito tirandole fuori dalla scatola. Bowers & Wilkins PX8, le bellissime cuffie over air attive con noise cancelling della casa inglese. Vedete già dall'immagine che sia il design che i materiali scelti sono di primissima qualità. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno della confezione. Sulla parte posteriore, ne approfitto, ve lo faccio vedere, dell'imballo esterno, abbiamo le principali caratteristiche delle cuffie e un'immagine zoomata di quello che è il design davvero esclusivo di queste cuffie over air. Apertura verso l'alto, eccolo qui, che rivela subito la bellissima custodia interna delle cuffie. Non mi dilungo perché sicuramente sarà Elena quella che si divertirà a parlarvi del design esclusivo di queste cuffie. Noi entriamo un po' più nel dettaglio di quelle che sono le sue funzioni. Apriamole. Eccole qua. Bellissime. Vedete che il padiglione ruota a 180 gradi, in modo da poterle riporre comodamente all'interno della custodia e adattarsi senza nessun problema al vostro capoccione. Regolazione slide per adattarla alla dimensione della testa. Vedete che canale sinistro e canale destro sono inequivocabilmente assegnati con una stampigliatura all'interno del padiglione della cuffia. Interfaccia dei microfoni per la correzione acustica ambientale. I microfoni sono più di uno, ne vedremo dopo le caratteristiche. E tasti funzioni, sia sul padiglione destro che uno sul padiglione sinistro. Nel dettaglio, tasto di accensione e spegnimento, si tratta di un selettore a tre posizioni, quella di spegnimento, quella di modalità operativa, e spingendolo verso l'alto si attiva la funzione di pairing Bluetooth. LED di stato, piccolissimo, che identifica con un codice colori lo stato operativo della cuffia. Stato operativo e di carica delle batterie, ovviamente. Tutto indicato, in modo abbastanza semplice, nel manuale utente, che può essere scaricato direttamente sul sito Bowers & Wilkins e che c'è anche in italiano. Tre tasti qui, quello di regolazione volume su e giù, e tasto multifunzione, che serve ad esempio durante la riproduzione musicale a mettere in pausa la riproduzione. Dall'altro lato, invece, un pulsante assegnabile, programmabile, tramite l'app scaricabile gratuitamente sia per piattaforma Apple che Android. Tasto funzione, che dicevo quindi che può essere programmato a seconda delle vostre esigenze, funzionali fondamentalmente, tramite questa app. Connettore di ricarica con interfaccia USB-C, che serve sia per ricaricare la batteria interna di queste cuffie wireless, sia per connettersi, ad esempio durante la ricarica, a un PC utilizzando le cuffie come interfaccia, come dispositivo finale audio di uscita, USB audio. Davvero molto belle! Vediamo che all'interno della custodia c'è anche uno scomparto, utilissimo per portare con voi i cavi e trovare una collocazione sicura senza perderli. Cavi che sono chiaramente quello USB, WUSB di tipo C per ricarica e interfaccia delle cuffie come dispositivo USB audio e anche un cavo USB-C jack per interfacciarsi a dispositivi con uscita cuffie tradizionale analogica e utilizzare in ogni caso in modalità cablata le vostre BMW. Diamo ancora uno sguardo a cosa ancora contiene la confezione, un plico con la manualistica presumo, eccoci qua, Safety and Warranty, quindi certificato di garanzia e istruzioni di sicurezza per il corretto utilizzo di queste PX8 e una Quick Start Guide con le operazioni basiche, che non sono tutte quelle che sono contenute nel manuale scaricabile online, ma le principali per iniziare a utilizzare subito le vostre cuffie. Ad esempio sono illustrati le diverse funzionalità dei tasti funzione, tra cui quelle da utilizzare durante la riproduzione musicale o durante una chiamata telefonica, infatti potete utilizzarle anche come headset per le vostre telefonate. Io le ho tirate fuori dalla scatola e vi ho fatto vedere i comandi principali, ma permettervi di captare meglio quali sono le loro caratteristiche estetiche sicuramente è un compito che spetta Elena. Allora, andiamo a vedere da vicino queste PX8 della Bowers & Wilkins. Intanto bellissima la custodia, rigida per proteggere molto bene le nostre cuffie, bello, bellissimo il colore, chiaramente questa è la versione chiara, poi c'è anche la versione in nero. Belli dettagli, guardate molto molto comodo il cursore qua della zip, ha questa linguetta molto comoda, abbondante, che ci permette un'ottima presa per l'apertura, quindi facile da aprire. La custodia si apre così a libro, guardate che belle, bellissimo sia il colore, che secondo me è una scelta vincente, associata a questo tipo di design, nel senso che noi abbiamo questo design un po' retro, con questo colore naturale, questo beige, che ci sta veramente benissimo. In associazione con questa bellissima satinatura, con in basso rilievo il logo Bowers & Wilkins, bello. La custodia internamente è protetta praticamente da uno strato che è un panno molto molto morbido, che appunto volutamente accoglie le cuffie senza danneggiarle in alcun modo. E poi loro hanno questo bellissimo movimento del pad, guardate che bello, che gli permette di essere riposte all'interno della custodia e tra l'altro permette chiaramente un'ottima ergonomia della cuffia. Non solo bello il movimento dei pad, ma bellissimo anche proprio il pezzo di raccordo tra il pad e l'archetto, un design fantastico veramente, i materiali sono bellissimi, questo alluminio satinato è fantastico, molto molto belli i tastini che si vedono appena sul fianco del nostro pad, che praticamente sono l'unico, diciamo così, inserto in contrasto tra questo design retro e questo aspetto così molto moderno del tastino sulla cuffia. Bellissimo anche sul fianco di questa parte in alluminio, non so se riuscite a vederla, queste micro forature da una parte e dall'altra, sono molto belle, oltre che chiaramente avere una loro funzione. L'archetto bellissimo, vi dico già che al tatto è super morbido, questa parte è veramente morbidissima, così come i pad fatti in nappa. Bello anche il contrasto di colore, anche qui con questo grigio in contrasto con questo beige, che mi piace molto, intervallato appunto dall'alluminio. Si intravede dal vivo, non so se si vede, se si riesce a vedere in camera, difficilissimo mostrarvelo, qui dentro si vede proprio la serpentina che corre, che arriva fino ai pad dall'archetto, molto bello. Dicevo, archetto super morbido e tra l'altro ha un movimento di, guardate, guardate che bello, per allargare la posizione, quindi scegliere, ecco qua si vede meglio, vedete quello che vi dicevo prima, la serpentina che corre all'interno. Dicevo, questo movimento è bellissimo perché non ha scatti, quindi significa che secondo me quando andremo a provarle, poi vi farò sapere, sarà molto comodo perché riuscirà veramente a calzare perfettamente sulla nostra testa. Non ha degli scatti ma è proprio uno slide continuo, molto molto bello, guardate che bello. Questo elemento metallico che chiaramente è quello che conferisce la rigidità all'archetto, che ha dentro questa serpentina che vi ho fatto vedere molto bella, è proprio cavo, tant'è vero che questa serpentina la vediamo sia dall'esterno che dall'interno qua dentro, quindi questo è proprio un elemento cavo in cui passa questa serpentina che corre fino alle cuffie. Molto molto bello, davvero, dei dettagli curatissimi, io quando le ho aperte sono rimasta veramente molto affascinata. Vi faccio vedere ancora nella custodia, di nuovo ottimamente realizzata, lo scomparto per i cavi. Allora questo scomparto è molto bello intanto sia per il suo design, perché adesso non so se riuscite a vederlo, ma in questa parte è più basso, mentre qua si alza e diventa più alto, proprio per accogliere anche la cuffia. Questo scomparto ha una chiusura, un coperchio che è provvisto di una calamita, che lo rende intanto bellissimo, ma anche molto molto utile, perché il coperchio praticamente rimane sempre in parte attaccato, e quindi non abbiamo problemi di perdite, di chiusure e quant'altro. E soprattutto è molto molto utile, perché appena noi lo lasciamo, guardate come se lo richiama. All'interno troviamo i due cavi che vi ha già fatto vedere Maurizio, anche qui cura dei dettagli al massimo, perché le fascettine per tenere ordinati i cavi, mi raccomando usatele sempre, anche queste marchiate Bowers & Wilkins. Beh, cosa dire, veramente dei dettagli interessanti, una bellissima cuffia, abbiamo due finiture per questa cuffia, abbiamo questa bellissima, abbiamo detto, sul beige, e poi abbiamo anche la finitura nera a disposizione, che come sempre, il nero è sempre vincente. Io questa la trovo molto chic, molto elegante. Dovessi io acquistare queste cuffie, acquisterei questa finitura piuttosto che il nero, uno dei pochi casi in cui mi piace di più il colore. Ultimissima cosa di cui non vi avevo parlato, la lettera che ci indica l'orecchio che dobbiamo inserire all'interno del pad, quindi il destro e il sinistro, guardate come sono ben conformati, per accogliere proprio disegnate, quasi sembrano disegnate su misura, molto molto belle. Pratiche, sicuramente, vedete come è facile rimetterle al loro posto, e poi come sempre la custodia rigida è un grande vantaggio. Se posso permettermi, io avrei inserito anche una custodia morbida, cioè un panno per poterle spostare anche senza la custodia rigida. Ma diciamo che sicuramente, se dovessi scegliere, preferisco quella rigida, perché ci protegge di più le nostre cuffie. Veniamo ora alle loro caratteristiche tecniche, approfondendo i loro numeri. Si tratta, come abbiamo visto, di una cuffia over air, wireless, basata su protocollo Bluetooth. In particolare, questo protocollo è un 5.2 APTX Adaptive, il che, come dice il nome stesso, permette di adattare il bitrate di trasmissione verso le cuffie in funzione della qualità audio di ciò che stiamo riproducendo. Il poter adattare il bitrate di trasmissione alla qualità audio della sorgente ha un duplice vantaggio. Il primo è di non consumare eccessivamente la batteria nel momento in cui non ce ne sia bisogno. Velocità di trasmissione più elevata e più efficiente richiede ovviamente più energia. Se la qualità audio non lo richiede, inutile sprecarla. Il secondo effetto molto importante è quello di diminuire la latenza. Vale a dire, il ritardo con cui l'informazione che stiamo trasmettendo arriva alle nostre orecchie. Minore è la quantità dati da trasmettere e minore sarà il tempo di attesa. Il cuore del sistema, il cervello possiamo dire di queste cuffie, risiede in un processore DSP a 24 bit in grado di pilotare a dovere il loro motore. Questo motore è rappresentato da due driver da 40 mm a gamma intera in carbonio. Questi driver garantiscono una distorsione armonica totale inferiore allo 0,1%. La batteria interna, ricaricabile agli ioni di litio, consente un tempo di riproduzione dichiarato di 30 ore con noise canse negativo. Questa durata di batteria vi consentirà tranquillamente di fare il giro del mondo in aereo. Il sistema di cancellazione del rumore presente sulle PX8 si basa su quattro microfoni. Altri due microfoni aggiuntivi invece sono utilizzati per le chiamate vocali. L'interfaccia USB di tipo C che abbiamo visto prima consente oltre che di ricaricare le batterie ovviamente tramite il cavo dedicato, anche di connettersi a una sorgente digitale in modo cablato. Infatti si tratta di un'interfaccia USB audio. Il perché di questa funzione sia importante? Beh, ve lo spiego in dettaglio nel video per cui vi lascio un link qui sopra. Con l'altro cavetto in dotazione invece potrete collegare le PX8 a un'uscita tradizionale analogica con jack da 3,5 mm. Potrete quindi utilizzarlo per connetterle al sistema di entertainment dell'aereo su cui state viaggiando. Piccola parentesi, attenzione alla compagnia aerea con cui state viaggiando perché potrete avere nel caso bisogno dell'adattatore a doppio jack. Beh, tutte le volte che si parla di cuffie mi trovo costretto a saltare a pie pari e tutta la parte legata all'ascolto, per ovvi motivi. Il grosso vantaggio per voi è che potrete saltare anche voi a pie pari tutta la solita ramanzina sulle istruzioni per l'uso di queste prove d'ascolto. Vi è andata bene alla fine. Dovrete pertanto fidarvi delle mie impressioni o ancora meglio delle vostre impressioni ascoltando con le vostre orecchie. Nelle impressioni d'ascolto ci sono sempre, sempre, sempre e non si possono eliminare dei parametri soggettivi. Le preferenze e in generale il gusto nell'ascolto possono portare le vostre sensazioni ad essere diverse dalle mie. Se ci pensate bene però è meglio sia così se no sai che noia ad avere tutti lo stesso impianto stereo e tutti le stesse cuffie. Quindi, tornando a bomba, veniamo alle mie personali impressioni su queste cuffie di cui vi dovrete accontentare per ora. Partiamo dal prezzo, sicuramente importante, che di listino è pari a 699 euro. Importo elevato, ed è quindi lecito aspettarsi prestazioni elevate sotto tutti i punti di vista. Abbiamo già visto che questo valore elevato lo troviamo sicuramente legato a design, materiali utilizzati e finiture. Anche le funzioni e le caratteristiche di queste cuffie le rendono sicuramente un oggetto di valore ai massimi livelli. Veniamo ora all'aspetto più importante, almeno per me, vale a dire la resa dal punto di vista squisitamente sonoro. Direi che non ho nulla da eccepire sulla loro qualità audio. Dettaglio squisito e bassi importanti e presenti. Quando indossate e utilizzate nella modalità tradizionale, possiamo dire, vale a dire senza la funzione di noise cancelling attiva, si ha la netta impressione di utilizzare una coppia di cuffie tradizionali cablate di alto livello collegate a un'amplificazione desktop. Questo, a mio modo di vedere, è il complimento migliore che si possa fare una coppia di cuffie wireless e le PX8 che abbiamo in prova oggi lo meritano davvero. Passiamo adesso alle funzioni legate all'utilizzo principe di questo modello, vale a dire l'utilizzo on the road. La funzione di noise cancelling funziona e funziona alla grande, a mio modo di vedere. Non ho avuto modo di provarla spesso, lo ha fatto di più Elena sicuramente, ma sfruttando una mia trasferta a Milano ho avuto la possibilità di testarle sul campo. Testarle per quanto riguarda la loro capacità di isolamento acustico attivo. Il rumore di fondo del treno era completamente annullato, sembrava di essere fermi. E quindi, di conseguenza, l'ascolto musicale in queste condizioni era perfetto. In passato ho praticamente sempre usato cuffie tradizionali in queste condizioni. Non avevo la pretesa di godermi la canzone, anche perché i rumori esterni la sovrastavano e si era costretti a tenere alto il volume. Con le PX8, anche a volumi moderati, si ha la possibilità di leggere il dettaglio della musica. In pratica ho riscoperto, grazie a queste cuffie, il piacere dell'ascolto musicale in senso stretto in treno. Nota importante, la canzone, i brani ascoltati, non sembravano risentire come distorsione dell'effetto del noise cancelling. In pratica mi sembrava di ascoltare la musica come se questa funzione di noise cancelling fosse spenta e in un ambiente silenzioso. Utilizzando l'app in dotazione, e su questo argomento sarà più precisa Elena più tardi, si può giocare facilmente accendendo e spegnendo la correzione acustica attiva. E la differenza era dir poco clamorosa. Efficace con lo sporco, ma delicata sui tessuti. Questo si direbbe se si parlassi di un detersivo. Tornando alle funzioni attivabili tramite l'app Bower S. Wilkins, nota di merito anche la funzione pass-through. Funziona bene, anzi, piccolo segretino, credo che la possiate utilizzare per ascoltare e spiare le conversazioni dei vostri vicini sul treno. Annullando i rumori di fondo, infatti, i microfoni direzionali captano le conversazioni e potrete farvi i fatti degli altri. Meglio non approfondire questo argomento. Lascio ora la parola ad Elena per approfondire il discorso per quanto riguarda le sue funzioni, ergonomia e praticità. In pratica, da quando sono arrivate, non le ha mai mollate. Bellissime PX8, abbiamo visto da vicino tutti i dettagli, adesso però vorrei parlarvi non tanto della loro resa sonora, ma quanto della loro comodità di utilizzo on the road. Per quanto riguarda l'ergonomia, siamo davvero su ottimi livelli, perché queste cuffie hanno dei pad molto comodi, molto morbidi, che aderiscono molto bene sulle nostre orecchie, sul nostro viso, senza effettuare nessuna fastidiosa pressione. Quello che mi ha colpito di più è il fatto che io le abbia utilizzate anche per lunghi periodi, nota ancora più importante, non mi dava alcun fastidio anche indossando gli orecchini voluminosi. Quindi, in qualche maniera, sono talmente ergonomiche che prendono talmente tanto la forma di quello che gli sta sotto che non danno alcun fastidio anche se indossiamo gli orecchini. Le cuffie sono leggere ed avvolgenti, molto molto comode e secondo me gioca un importantissimo ruolo sulla comodità e sull'ergonomia di questa cuffia il fatto che questo archetto abbia un movimento continuo. Questo fa sì che, non avendo degli scatti, diciamo così, che magari non sono molto ravvicinati in alcuni casi, in questo caso, avendo invece appunto questo movimento continuo, possiamo adattarlo alla perfezione sulla nostra testa. E poi, ovviamente, super super comoda la caratteristica wireless di queste cuffie, che ovviamente ci permette una libertà di movimento assoluta, soprattutto quando siamo in viaggio. Molto carina la possibilità di avere un'app dedicata proprio a queste cuffie da installare sui nostri device, sul nostro cellulare principalmente, utilissima anche perché possiamo associare non solo più cuffie sulla stesso account, ma anche più device sullo stesso account, avendo la possibilità di selezionarli. Molto intuitiva l'interfaccia dell'app, ovviamente prima del suo utilizzo occorrerà connettere via bluetooth le cuffie o gli auricolari, perché chiaramente l'app è la stessa sia per le cuffie che per gli auricolari. Dobbiamo connetterli, dicevo, tramite bluetooth. Nel caso delle cuffie sarà sufficiente portare verso l'alto il tasto di accensione, sono addirittura indicati incisi i simbolini sul pad. Si accenderà questo piccolo led ad indicare che è acceso ed è attivo dal punto di vista bluetooth. Troviamo il dispositivo tra i nostri dispositivi disponibili all'interno del nostro cellulare e il gioco è fatto. Successivamente si apre l'app, l'app riconoscerà appunto il fatto che ci sia collegata la PX8 in questo caso e quindi vi darà una serie di informazioni di una specie di manuale rapido di utilizzo, molto utili, con, dicevo, un'interfaccia molto carina, una grafica molto carina, come potete vedere. Altra cosa molto utile, questa disponibilità di avere questa guida rapida rimane sempre facilmente reperibile sull'app in modo tale che voi possiate riprendere appunto i comandi finché non avrete memorizzato le sequenze direttamente dall'app in maniera molto semplice. I comandi sono pochi ma molto utili perché vi dirò la verità, queste tre modalità di ascolto che vi consente di utilizzare questa cuffia, io all'inizio ho detto ma sì, che differenza mai ci sarà tra il noise cancelling piuttosto che tenerlo disattivato, piuttosto che questo pass through. Invece, signori, mi sono dovuta ricredere. Ottimo, davvero ottimo il noise cancelling. Le ho testate su treni e metropolitana ed effettivamente la differenza è veramente notevole nel momento in cui è attivo oppure non è attivo. I rumori di fondo vengono mitigati tantissimo, tant'è vero che non abbiamo proprio nessun fastidio di ascolto e ci permette di tenere anche i livelli bassi di volume, questo è importantissimo, non perdendo appunto la possibilità di sentire molto bene e con ottima qualità. Geniale la funzione pass through, letteralmente passare attraverso, questa funzione praticamente ci permetterà di ascoltare all'esterno come se non avessimo le cuffie. Questa è una cosa fondamentale soprattutto per l'utilizzo on the road perché possiamo utilizzarla ad esempio per sentire gli annunci quando siamo sul treno o sulla metropolitana, piuttosto che per sentire qualcuno che ci sta parlando per chiederci un'informazione o ancora di più importantissimo a livello sicurezza. Quando noi utilizziamo le cuffie e stiamo camminando per strada, attraversando corsi, comunque in zone trafficate, questa funzionalità pass through sicuramente ci aiuta dal punto di vista della sicurezza perché ci permette di sentire cosa ci accade intorno, non da sottovalutare, utilissima. In pratica è una funzione che trasforma le vostre cuffie chiuse in cuffie aperte ma solo dall'esterno verso l'interno, mentre i vostri vicini di sedile non sentiranno cosa state ascoltando qua dentro. Utilissima, davvero davvero intelligente. Posso pilotare le cuffie non soltanto tramite app, quindi non per forza devo avere il cellulare in mano quando le utilizzo, ma posso utilizzare i tasti che sono direttamente posizionati sui pad. Quindi abbiamo la possibilità di alzare ed abbassare il volume tramite questi due tasti, il tasto centrale invece ci permette di rispondere ad una chiamata, interrompere la riproduzione, passare avanti nel brano, tornare indietro, ovviamente tramite pressioni differenti. Una pressione, due pressioni, ovviamente se c'è una chiamata in corso automaticamente il tasto serve per rispondere e chiudere una chiamata. Poi abbiamo detto il tasto di accensione e spegnimento che viene utilizzato semplicemente all'inizio e alla fine del loro utilizzo, intelligentissimo da parte loro, mettere sul pad sinistro e quindi non su quello destro, quindi ben separato, questo tasto che invece ci permette di cambiare la modalità. Cioè noise cancelling, pass through oppure disattivare tutto. I tasti sono molto comodi perché vi faccio vedere quando voi indossate la cuffia sono sul retro, quindi è molto comodo perché con il pollice io posso regolare il volume oppure mandare avanti la canzone, interrompere la riproduzione. Intelligente anche il fatto che il tasto centrale è zigrinato a differenza degli altri due, quindi già solo al tatto, anche senza contare i tasti, io capisco esattamente che cosa sto facendo sul mio pad. Comodo, davvero comodo. Altra funzione molto utile è la possibilità di interrompere la riproduzione sollevando uno dei due pad. Questo è molto interessante soprattutto, di nuovo torniamo a ripeterlo, sull'utilizzo underod. Nel senso che se qualcuno arriva e mi sta dicendo qualcosa e io non ho voglia di mettere il pass through perché comunque non voglio continuare a sentire la musica, sollevo il pad e in automatico si interrompe la riproduzione. La cosa più bella è che quando io riappoggio il pad lui riparte con la riproduzione esattamente da dove aveva interrotto. Veramente un piccolo gioiello queste cuffie, mi sono piaciute moltissimo. Finiture per queste cuffie, l'abbiamo già detto nel visto da vicino, esistono anche in nero. Questa finitura è fantastica, veramente bellissima. Il nero è sempre il total black, sempre molto aggressivo e sta sempre bene con tutto, con il nero lo sapete non si sbaglia. Però abbiamo anche due edizioni speciali proprio di questa PX8, una realizzata per i 60 anni di 007, anche questa molto scura e tenebrosa. E un'altra invece in collaborazione con McLaren che ovviamente ripropone quell'arancio caldo tipico del marchio di auto. Belle, veramente belle. Vediamo ora a chi si rivolga Bowers e Wilkins con questa coppia di cuffie wireless. Chi potrebbe esserne l'utente ideale? Ritorniamo al costo, non banale, di 699 euro, come ho già detto. Si tratta di un prezzo importante ovviamente. Il mercato inoltre offre prodotti validi a prezzi inferiori. Le cuffie wireless praticamente ormai le hanno tutti, compresi i miei colleghi. E da come ho potuto verificare con mano il compromesso principale quasi sempre fatto su materiali utilizzati, finiture e design. Ma anche attenzione per i modelli che ho provato sulle qualità sonore in senso stretto. Ho provato con i miei colleghi in confronto diretto e incrociato anche altre cuffie molto famose in questo settore. Vi posso dire, se le funzioni di noise cancelling erano paragonabili, mi viene da dire, la qualità sonore in senso stretto di queste PX8 è stata sempre superiore. Non so la detta mia, ma anche la detta dei colleghi. Quindi ragazzi, se cercate una coppia di cuffie wireless, se il budget ve lo permette, fate un pensierino più che serio a queste PX8. Qualità sonora ottima, comodità e funzioni ausiliarie, le possiamo chiamare precise, comode e pratiche. Ma poi, che belle sono! Non passano sicuramente inosservate, quando le avevi in testa la gente si girava a guardarle e non guardava a me, vi lo assicuro. Un modo ottimo, praticamente allo stesso costo, per distinguersi ad esempio dal popolo dell'AirPod Max. Con qualità audio, a mio modo di vedere, superiore. Come detto prima, sul mercato sicuramente ci sono cuffie con funzione di noise cancelling paragonabile, ma dubito seriamente che ci possano essere cuffie in questo preciso settore di mercato con qualità audio superiore. Qui, in fondo, siamo su Audiofilando e quindi la qualità d'ascolto, anche in questo genere di prodotti, deve essere la cosa più importante. C'è qualcuno nella community che le abbia provate e confrontate con altri modelli, anche importanti, in questo settore di mercato? Sono curioso di sapere cosa ne pensiate. Ricordate che la vostra esperienza è molto importante e i vostri commenti che potete lasciare qui sotto in descrizione possono essere fondamentali per gli altri membri della community. Se costruttivi, infatti, possono indirizzare nel modo giusto e permettere di fare, in base alle proprie esigenze, la scelta più corretta. Per oggi direi che ho finito, quindi non mi resta che augurarvi buoni ascolti e ciao! Grazie a tutti!